Senti, ma tu dici che... Ah, c'è un'altra domanda. Perfetto, bravo. Ci può presentare prima? No, pervenzione. Hanno detto come cognome, sono Romano Spezzatano. Sono già a 200 anni, quindi ho visto un po' la comunità in Sabienza. No, io volevo rafforzare questa cosa, perché Giabino, da l'altro, non conosceva... Si avvicini il microfono, perché la sentiamo... Volevo rafforzare queste ultime cose che ha detto, perché Giabino non conosceva il progresso della genetica, ma ha maggior ragione, sarebbe detto, ma Dio perché ha fatto sì che... Fino adesso hanno scoperto circa 75.000 affetti genetici. Quindi questa è la serie affettissima, perché doveva fare il genome in questo modo così complicato, con infetti, con la doppia... Ci sono delle due due conseguenze che poi complicano e quindi creano malattie. In questo senso, mi dà anche un po' fastidio la parola evoluzione, nel senso che ti dà il cambiamento. Non è che, anche tutto, lei ha detto a un passato che se si ritiene utile quella cosa non è rinacquisita dalla specie. Non so se è sempre così, anche se è negativa rinacquisita. Cioè, il processo casuale di evoluzione, di evoluzione, non mi dà una parola che non condivido, perché può essere anche un'evoluzione, un peggioramento. Non è che necessariamente il cambiamento porta a migliorare, possiamo pure peggiorare. Tant'è che tanti gli dati genetici venivano fuori dopo, ma prima non c'erano, no? Quindi, per fare un esempio, classico. Non conosceva la genetica, non conosceva, vuol dire... E quindi se l'avesse conosciuta, a maggior ragione, avrebbe detto quelle cose lì. E quindi siamo partiti da due parole che hanno fatto una rivoluzione, adesso vogliamo che tu chiarisca la parola evoluzione. C'è una domanda nel fatto, se lo fai che vai vicino e tacchi le parole. Grazie, mi chiamo Bruno Fedi e per capire il mio punto di vista vi dico che sono professore di urologia dell'Università di Roma, cioè ho una deformazione mentale di tipo biologico. Sono pressoché d'accordo con tutto, con ciò che è stato detto, ma di questo non voglio dire niente perché sarebbe assurdo. Voglio fare invece una precisazione sul linguaggio. Non è sicuramente vero che il linguaggio sia nato da ragioni sessuali. È nato sicuramente per una forte compromissione emotiva, fa parte del pensiero sentimentale, ma non soltanto per queste finalità di riproduzione della specie, non per la seduzione della femmina. Perché le cose che si conoscevano all'epoca di Darwin sono una piccolissima parte di quelle che si sanno oggi. Per esempio, il linguaggio delle api. Il linguaggio delle api è soprattutto finalizzato a insegnare alle compagnie e alle colleghe la strada, la ricerca del cibo, le grida di pericolo degli scimpanze, tutte cose dimostrate, tutte cose provate, a cui sicuramente lei conosce la persona, sgreccia, quando io gli feci l'osservazione, non sape rispondere. Perché lui diceva esiste fra noi e il loro linguaggio un fossato incolmabile. No, esiste un fossato, ma esiste un fossato quantitativo, non qualitativo. Lei ha usato le stesse parole che usai io in quell'occasione. E il fossato non è incolmabile. Nessuno può sapere se è incolmabile oppure no. Se fosse veramente incolmabile, ciò significherebbe che lei, sgreccia, ha delle proprietà divinatorie, è capace di indovinare il futuro, il che è impossibile. Quindi, c'è sicuramente la componente emotiva e sentimentale, ma è rivolta verso tanti altri aspetti. Chiunque vi voglia un gattino in casa avrà visto che la gatta parla al gattino con tono diverso da come parla a un'altra gatta o addirittura, come si rivolge, al padrone o alla padrona. Distingue bellissimo il maschio dalla femmina e non è un animale supremamente intelligente. C'è quindi questo aspetto che è il vero, ma fa parte di tutta una serie di altri aspetti. Grazie. Vediamo se te la cagli meglio di sgreccia. Questa domanda è sul linguaggio e poi su un'altra parola che a noi probabilmente fa un effetto diverso. La prima era appunto sulla parola evoluzione, questa è più che altro sul linguaggio e anche sul linguaggio e rapporto al sesso, che adesso noi italiani fa un po' uno strano effetto, ma per dare un significato molto più preciso. Sì, ringrazio per queste domande che sono mirate, precise e molto aspettate. Si aspetto? Non bisogna parlarci proprio dentro, devi tenerlo così. Riguardo alla parola evoluzione, questa precisazione mi permette di dire altre cose che ho dimenticato di dire. Evoluzione è un termine molto ambiguo, molto ambiguo perché, come ci dice Giulio Barsanti, che è un fine conoscitore della storia dell'evoluzionismo, il termine evoluzione deriva dal latino, evoluzio, che significa il gesto di spiegare un rotolo, una pergamena. E chi usava la parola evoluzione, per esempio prima di Darwin, erano ad esempio i preformisti, preformisti che dicevano che le forme erano tutte contenute all'inizio e anche nell'embrione e poi vengono dispiegate evolutivamente e progressivamente. Darwin è lontanissimo da questa idea. Quindi effettivamente il termine evoluzione, se lo si vuole usare per descrivere la teoria di Darwin, bisogna perlomeno, diciamo, precisarlo, no? A Darwin piaceva di più il termine, diciamo, discendenza con modificazione. Ecco, lui usa questo termine che sfugge un po' da queste amiguità. Perché la parola evoluzione è un connotato positivo, no? Esatto. È proprio, per esempio, l'idea di una direzione verso un progresso, per esempio, si potrebbe dire che la teoria di Spencer fosse una teoria dell'evoluzione, no? In questo senso. Cioè una teoria, secondo cui, vinti avverrebbero in una, diciamo, direttiva... Solo il migliorato. Ma posso interessarvi a queste cose? Ma posso contestare? Certo. Nel senso che il contrario di evoluzione è evoluzione. Involuzione vuol dire tornare indietro, no? L'evoluzione vuol dire comunque spostare. Ma nel linguaggio corretto è che comunque si si sposta. Quindi non si torce. Ma nel linguaggio corretto è quella che funziona sempre assoluta. Nel linguaggio corretto è quello che si è corretto. No, no. Nel linguaggio corretto, non si è contrarre in evoluzione. Etimologicamente ha ragione. Sontare indietro. Etimologicamente, ma io parlavo del linguaggio corretto. Sì, sì, sì. Sì, beh, diciamo che appunto, con il termine latino è rancorato, no? Questa parola evoluzione, no? Ha proprio un senso progressivo della trasformazione. Diciamo che è un termine ambiguo, anche non ha un significato ben preciso. Riguardo invece la questione del linguaggio, certo, Darwin, la sua teoria è una teoria dell'Ottocento, quindi si può capire, anche perché lui fu il primo, no? A pensare in questo modo nuovo. Già io direi che è sintomo di grande lucidità filosofica, porre il linguaggio al centro della questione, no? Come fa Darwin. E poi lui ha, diciamo, gettato un'ipotesi e poi si può discutere, è stata, certo, discussa a lungo. Però, diciamo, il fatto che lui abbia posto al centro il problema del linguaggio, io credo che sia una questione non di poco conto. Oltretutto, la sua idea è così, la sua idea è quella di, diciamo, un linguaggio che in qualche modo ci serve per capire la differenza fra uomo e animale. Oggi è interessante, per esempio, una questione del grado, no? Cioè, della, diciamo, della questione se noi siamo diversi dagli animali per grado, per quantità o per qualità. Ma io direi che per come la si mette oggi non ha ragione nessuno dei due corni del Tiena. Cioè, oggi è interessante, per esempio, l'idea che non ci sia né una differenza quantitativa né qualitativa, o meglio, la differenza sta in tutte e due i corni del Tiena. Si potrebbe pensare, come per esempio diceva Gould, che ci sia una differenza qualitativa tra la mente dell'uomo e dell'animale, ma che questa differenza, questa discontinuità sia solamente nelle funzioni, no? Non nelle strutture. Le funzioni, diciamo, ci danno una discontinuità che però mantiene una continuità nelle strutture. Quindi è un nuovo uso di vecchie strutture che potrebbe aver determinato la differenza tra l'uomo e l'animale, la cooptazione di una struttura per funzioni differenti. E questo si chiama, come dicevo prima, no, exaptation. È un meccanismo molto interessante che Darwin aveva già elaborato nell'origine delle specie, nella sua edizione sesta del 1872, per rispondere a delle obiezioni che Mivart, un naturalista del tempo, gli faceva, secondo cui la selezione naturale non sarebbe in grado di spiegare le strutture incipienti, no? Perché, per esempio, come dice Gould, come facciamo a spiegare con la selezione naturale un'ala al 5%, no? Un'ala al 5% non può volare. Quindi è impossibile che la selezione naturale che agisce su strutture utili ora, no? Possa aver sviluppato un'ala. Allora dobbiamo immaginare, proprio per questi casi, come potrebbe essere anche il caso del linguaggio, un cambiamento di funzione, a un certo punto, no? Quindi una discontinuità funzionale, mantenendo però la continuità con la struttura dell'ala. Per cui l'ala all'inizio potrebbe aver avuto una funzione termoregolativa, no? Per poi cambiare funzione, mantenendosi ala, ma sviluppandosi ulteriormente, e essere cooptata per il volo. Questa è un'idea che già Darwin metteva in campo alla fine dell'Ottocento e oggi è un'idea assolutamente attuale. E farci le rispondi. Aspetti, però ci sono due domande, abbiamo soltanto un quarto d'ora, posso... Solo trenta secondi. Allora, trenta secondi. Ogni differenza quantitativa arrivata a un certo punto diventa quantitativa. Certo, è proprio questo. Certo, è proprio questo. Nessuno sa se il computer, arrivato a una certa complessità, sarà capace di pensare qui stesso. Certo, sì, sì, è esattamente questo. Lo accennava, lì, prima parlando. Freud e Darwin. Lo chiarisce meglio del libro? No, aspetta, aspetta, ci sono... Lo accenno solo, in realtà. Però emerge, cioè io conduco un'analisi sull'espressione delle lezioni, sul testo di Darwin, e lì viene fuori questa continuità, questa vicinanza. Ma è un giudice reciprociterio, soprattutto il Freud... Non ricostruisco storicamente il dibattito, viene fuori dall'analisi del libro, però non metto a confronto direttamente Freud e Darwin. Allora, io invece vorrei sapere qualcosa a proposito del finalismo. Nel senso che, ovviamente, se lo appliciamo sulla scala della storia naturale, il finalismo non ha alcun senso da cui ce lo mostra bene, come ce lo vedrai tu. Però invece, prima, abbiamo fatto un riferimento invece agli embrioni. Ecco, di recente mi è capitato di fare alcune letture di epistemologi francesi. Allora, c'è un tale, André Pichot, che dice che il genoma potrebbe essere la nuova frontiera del vitalismo. Nel senso che, su scala embrionale, lo sviluppo degli embrioni, appunto, viene, per volte, atteso da alcuni studiosi, e volevo sapere tu cosa ne pensassi, come un processo finalistico, però di un finalismo che è diverso da quello storico, della storia naturale, che lo sperimenti è più interessante.